Ogni mattina il mondo è un foglio bianco che attende che i bambini lo colorino, dice un noto scrittore. Sono proprio i bimbi nisseni della scuola dell'infanzia Paolo Borsellino del Circolo Lombardo Radice che dalle loro abitazioni, con l'aiuto e il sostegno dei genitori, coloreranno queste giornate grigie e pesanti. Andrà tutto bene, lo slogan che tra colori e arcobaleni disegnati saranno appesi a finestre e balconi. L'iniziativa corre sui gruppi social e whatsapp di mamma e papà, un appuntamento a distanza che è per sabato 14. Momenti creativi e di speranza, dove il web, se usato bene, diventa luogo di ironia per mantenere alto il morale, come le clip esilaranti di Rosbert. Ho detto che dovete stare a un metro di distanza. Seguita voce del web nissena, che ironicamente invita tutti a mantenere un metro di distanza doppiando una celebre scena di un film cult come Rambo. Ma anche il luogo di solidarietà è il web, perché c'è chi crea una pagina Facebook per le consegne a domicilio nel rispetto delle regole, sia della spesa ordinaria, ma anche di libri o personal trainer nisseni che propongono lezioni gratuite online per mantenersi in forma ed impegnare il tempo in modo salutista. Creatività, speranza e unione, anche a distanza. Questo è quanto condividono le famiglie nissene online.